Ma sta fase parabolica vuole arrivare oppure no? In un recente sondaggio che ho fatto qui sul canale si vede che una buona percentuale di persone, un 68% di chi ha risposto, pensa che Bitcoin esploderà verso l'alto nei prossimi due mesi. Un 13% invece pensa che ci sarà ancora lateralizzazione, un 12% che è in arrivo una correzione pesante proprio in questi due mesi e un 7% invece che le altcoin sovraperformeranno Bitcoin. Quindi siamo abbastanza sbilanciati nel credere, nel pensare che Bitcoin avrà il suo pump e una parte invece, una larga parte comunque, pensa che si continuerà ad andare laterali o comunque a scendere. Detto ciò andiamo a vedere un attimo velocemente il macro, come sta andando e poi andiamo a focalizzarci su Bitcoin. Allora con macro diamo un'occhiata velocissima ai portafogli di investimento che abbiamo creato qua sul canale, sono portafogli ricordo didattici, portafogli didattici che abbiamo costruito con soldi reali o costruito con soldi reali in diverse categorie, in modo da avere uno specchietto e appunto didatticamente insieme qua sul canale andare avanti. Sono portafogli che lascio aperti, che man mano vado ad alimentare e che vanno a crescere nel tempo e che servono appunto per testare strategie, mostrare soluzioni qua sul canale. Allora il nostro portafoglio è attualmente a un 3.20% complessivamente, quindi siamo a un 500 euro circa di profitto. Come strutturato c'è una parte crypto, una parte azionaria e una parte mista in realtà con oro, argento, queste cose qui. Tendenzialmente abbiamo un portafoglio didattico su Trade Republic, ciascuno di questi portafogli, li vado a mostrare poi separatamente, porto aggiornamenti e tutto, uno su Bitpanda, poi quello di Pionex e poi Uodler Nexo, quindi alcuni crypto, altri no, cioè sono un po' misti, azioni e tutto. Tendenzialmente vediamo che l'azionario è quello che ha performato meglio. Siamo a un 2.77% nell'azionario ed ETF puro sul portafoglio didattico Trade Republic, in realtà qui devo aggiungere ancora diverse posizioni, non l'ho ancora finito, lo sto facendo un po' per volta perché ci sono tante posizioni, però siamo intorno a un 5% più o meno di guadagno totale qua su Trade Republic. Sul portafoglio questo qua invece è già aggiornato, quindi azionario siamo a un 7.75%, qua ci sono anche i metalli, è salito finalmente un po' se è svegliato Bitcoin e ha pompato il portafoglio lato crypto, vediamo un 5.20%, un 4.73% lato crypto. Qua invece ho per lo più USDT che generano interessi, quindi è a parte. Questa è un po' la situazione macro, vediamo che ancora l'azionario sta tra virgolette dominando, ma Bitcoin si è svegliato. Passiamo a questo punto a vedere l'andamento di Bitcoin per questo mese, cioè come diamine sta andando Bitcoin, come sta performando. eccoci qua, siamo ad un ottobre che vede un più 8.59% di un punto percentuale, se vogliamo, qualcosa in più rispetto settembre, quindi settembre e ottobre sono stati comunque dei mesi che attualmente stanno andando bene. Siamo praticamente nell'ultima parte di ottobre, quindi vedremo se ci sarà un rally in questa fase o se ci sarà poi a novembre, ricordo sotto, elezioni. Di fatto vediamo comunque il prezzo di Bitcoin che si sta muovendo tendenzialmente bene. L'ultimo periodo è stato bello spinto, adesso andiamo a ingrandire qua il grafico, qua siamo su Pionex, uno degli exchange che preferisco in assoluto, perché mi permette di automatizzare praticamente qualsiasi cosa. Quindi sia che tu sia un esperto, sia che tu sia un novizio nel mondo delle cripto, Pionex è un exchange che ti permette di fare qualsiasi cosa, cioè ci sono soluzioni sia per i meno esperti e soluzioni che possono essere assemblate, giocate, gestite anche per i più esperti. Quindi un exchange da questo punto di vista secondo me è completo, leader di settore nell'ambito delle automazioni, ci sono tantissime piattaforme là fuori che vendono servizi di grid trading piuttosto che bot e cose varie, beh qua su Pionex là è praticamente tutte gratuite. Ricordo è un exchange, un checks, quindi esattamente come tutti gli altri exchange centralizzati, Binance e così via, però focalizzato sui trading bot. Ciò non vuol dire che non si possa lavorare anche manualmente, c'è lo spot manuale, il futures manuale e anzi hanno delle funzionalità estremamente avanzate, comode, anche rispetto i competitor, quindi veramente un exchange col quale mi trovo benissimo. Ti lascio qua sotto il link in descrizione, ci sono promo, vantaggi, tantissime cose se ti registri. Arriviamo a noi, arriviamo a noi, arriviamo a noi, questa è la situazione attualmente di Bitcoin, vediamo che le ultime ore sono state ore di pump, o meglio gli ultimi giorni in realtà, qui abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto giorni, quindi l'ultima settimana, è stata una settimana bella impulsiva. Sono contento di questa cosa qui, ricordo come ho detto anche nei precedenti video, il target importante erano i 68k, cioè arrivare ai 68k mi va a rompere questa struttura che si era creata, quindi ci siamo, abbiamo rotto i 68k, siamo in quest'area adesso che stiamo combattendo, vediamo se riusciamo a permanere in quest'area questa settimana, se così fosse allora il target degli 80-90k che avevamo designato è un target altamente probabile, viceversa ritornare, romperci uno alle scatole, ci riporta di nuovo a stare, permanere all'interno di questo range. Quindi dobbiamo vedere chiaramente come evolverà tutta la situazione. C'è da dire una cosa, che comunque abbiamo chiuso la settimana scorsa sopra i 68k, perché la settimana è stata di fatto chiusa. È vero che ora c'è un riassorbimento in atto, però la settimana è stata chiusa sopra i 68k e questo è estremamente positivo. Potrebbe esserci adesso appunto un rimbalzo, anzi probabile che ci possa essere, e vediamo effettivamente se sparerà verso l'alto. Vorrei andare ad analizzare una cosa molto interessante, molto importante, per comprendere quali sono effettivamente le aree importanti in questo momento. Allora, chiaramente questi due sono supporti e resistenze che dobbiamo tenere in considerazione di questo canale, ma i volumi dove si stanno muovendo, i volumi in realtà sono qua. E quindi è molto importante analizzare questa fase. Ora, se andiamo a metterci per esempio uno strumento che utilizzo tantissimo è questo, andiamo a prenderci un range che va tra questo e il momento attuale, quindi più o meno qui. Eccolo qua, vedremo che il più delle contrattazioni, questo qua è il volume profile, cioè mi va a dire a livello contrattazioni, dove c'è il maggior volume, quindi non così come vediamo qua in verticale per giorno, ma per fascia di prezzo. In questa fascia di prezzo vediamo che il più del volume si trova in quest'area. Quindi quest'area è molto elevata a livello scambio e parliamo dell'area dei 60k, quindi 69, fai tra i 60 e i 61k più o meno. Va via via a scaricarsi, ma diciamo che il clou del movimento lo si trova proprio in quest'area qua. Quindi siamo a ridosso del 67 barra 68k rialzo, quasi 68k, e a ribasso intorno ai 57k. Quindi tra i 57k, quindi qua, e i 68k sono avvenute la maggior parte di contrattazioni. Quindi questa è l'area chiave. Ecco perché dico 68k è il livello che ci interessa. Rotto questo, vediamo che i volumi vanno via via a diminuire fino ai 73k, quindi il top precedente che avevamo raggiunto qui e poi da qua si va in price discovery. Quindi chissà cosa succederà. Finché ci manteniamo sopra quest'area, le cose vanno secondo me bene. Importante notare questo movimento qua, quindi qua si sta andando a creare un'inversione rispetto, abbiamo detto, quello che era il trend ribassista che abbiamo visto o comunque lateral ribassista. Ora dobbiamo vedere però come questa cosa continuerà, come si configurerà chiaramente. Un riassorbimento fino a quest'area qui è possibile? Assolutamente sì. L'importante è che non si ritorni sotto questo livello qui, i 60k. O meglio, secondo me questa è l'area importante, quindi tra i 64k e i 60k. Non bisognerebbe tornare sotto quest'area. Tornare sotto quest'area aumenta drasticamente, secondo me, le percentuali, le possibilità di ritrovarci ancora una volta a stagnare. Ciò non toglie che non ci possa essere un flash crash prima di una ripartenza ulteriore. Vediamo, per ora comunque stiamo riassorbendo la giornata di ieri, totalmente direi. Se andiamo anche a ingrandire magari si nota meglio nel breve, eccolo qua. Abbiamo totalmente quasi riassorbito la giornata di ieri. Qui è possibile che vedremo magari della stagnazione prima di un movimento. Vediamo poi che tipo di movimento sarà ovviamente. Ah, e a proposito, prima di passare agli ETF per vedere come vanno, bisogna annunciare il vincitore del nostro contest. Devi sapere infatti che spesso lanciamo dei contest, in particolare questa settimana abbiamo fatto un contest su indovina il prezzo di bitcoin. Chi si avvicinava di più a indovinare il prezzo di bitcoin di ieri a mezzogiorno avrebbe ricevuto ben 100 dollari che può utilizzare per avviare un grid trading futures proprio qui su Pionex. E il vincitore è stato, rullo di tamburi, loser, con l'UG73476033. Lo scriverò anche nella chat. Questo è il vincitore dei 100 dollari bonus, complimenti. Ti arriveranno, penso, entro 24 ore massimo i tuoi 100 dollari. Ti ricordo, se ancora non sei nel gruppo chat Telegram, qua sotto ti lascio il link nella descrizione, oppure clicca qua sopra. Entra nella chat Telegram. È assolutamente gratuita. Siamo più di 700 membri. Abbiamo un canale diretto, appunto, di discussione, dove parliamo di investimenti, di finanze. Poi ci sono tutti questi contest, premi e cose varie che possono essere sempre molto, molto interessanti. Andiamo a questo punto a vederci i nostri ETF. Parliamo dal 2 fino al 18 di ottobre. Vediamo, BlackRock è partito subito il 2 con uno scarico, poi abbiamo avuto il 3, una discreta accumulazione, il 4 nulla, il 7 una discreta accumulazione, anche l'8, il 9 un po' più leggera ma ci sta, un po' di scarico il 10, niente. E poi vediamo il 15, il 16, il 17. Abbiamo avuto delle accumulazioni di tutto rispetto. Lato Fidelity, guardo giusto i primi due. Abbiamo avuto una buona accumulazione il 2. Vediamo che praticamente ciò che è stato scaricato da BlackRock è stato accumulato da Fidelity. Viceversa, ciò che è stato accumulato da BlackRock, il 3 è stato scaricato da Fidelity. Insomma, si scambiano i Bitcoin. Qua niente, accumulo, buon accumulo, un po' di scarico riassorbito direi. Qui entrambi hanno scaricato. Qua abbiamo visto una buona dose lato Fidelity e quindi tendenzialmente si sta spingendo bene. Anche Fidelity è partita, ha iniziato ad accumulare veramente tanto. Ha scaricato anche di più. Vediamo invece BlackRock che nonostante il numero, il volume di accumulo, si tiene sempre su uno scarico molto molto basso rispetto gli altri. Nel globale le cose stanno andando relativamente bene, si sta continuando ad accumulare. Quindi questa è la situazione su Bitcoin. La fase parabolica famosa arriverà, non arriverà, chi lo sa, arriverà se e solo se, secondo me, entreranno di nuovo dei retail ad acquistare. Finché ci teniamo sotto i 70k è difficile che possano entrare. Cioè non toglie che comunque stare tra i 68k e i 70k, come range, già inizia a movimentare un po' la storia e dare anche un po' di spazio al mercato altcoin, per muoversi, per riprendersi. Diciamo che ci avviciniamo sempre più alle elezioni, quindi è molto più probabile che ci siano dei movimenti a rialzo in questa fase. Vedremo chiaramente come andrà. Però tendenzialmente io sono attualmente positivo su Bitcoin. Sì, può esserci qualche scarico, ma sono tendenzialmente positivo. Ti ricordo, ti lascio qua sotto il link di Payonex. Se ancora non lo usi, registrati, è gratuito e hai tantissimi strumenti, tantissime soluzioni che puoi utilizzare per creare piani d'accumulo, bot di ribilanciamento, veramente un sacco di cose, anche bot in copia. Io opero su Payonex e tante volte prendo alcuni di questi bot che vado a creare e li metto in copia per chi vuole copiarli all'interno del canale Telegram. Motivo in più per entrare appunto nel canale Telegram, anche in questo caso trovi il link qua sotto. Fammi sapere la tua nei commenti, fammi sapere cosa ne pensi di Bitcoin in questa fase, fammi sapere se pensi che potrà salire o se pensi che ci sarà uno storno. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato, mi raccomando. Uscirà questa settimana, penso mercoledì o venerdì, dipende da quanto tempo ci vuole poi per montare il video, un video dettagliatissimo su Bitcoin per far fronte alla tassazione che si sono voluti inventare e che vedremo se verrà approvata o meno del 42%, tanto tutti abbiamo saputo questa notizia qui, probabilmente anche tu che stai guardando questo video, ho preparato un video dedicato che va a mostrare proprio come evitare questa cosa qui, ma uscirà anche un video in cui mostro come generare Bitcoin gratis. Quindi questa settimana sarà bella bella densa di contenuti interessantissimi e soprattutto utili. Quindi se ancora non sei registrato, puoi cliccare o qui, dovrebbe esserci un'iconcina cliccabile per iscriverti, oppure comparirà qua in mezzo la mia facciona, clicca là sopra e ti puoi iscrivere al canale. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo video. Grazie.